Nell'area che abbraccia Frosolone e i centri limitrofi ci sono interessanti insediamenti di epoca preromana, ma finora in pochi ci hanno dato peso. Le cose potrebbero però cambiare. Italia Nostra ha infatti sollevato questo velo di indifferenza, sottolineando le potenzialità di un territorio in credito con la storia, come recita il tema del convegno. L'area archeologica della Civitelle di Castellone è un'area di 150.000 metri quadri, racchiusa da circa 5 km di mura megalitiche, un luogo strategicamente importante, risalente all'epoca sannita ma forse anche all'epoca ancora anteriore. Anche nelle zone circostanti, se vediamo Duronia, Civitanova e del Sannio, ci sono molti siti di importanza che andrebbero studiati più approfonditamente. Sono siti anonimi, non ancora oggetto di studio, che potrebbero però apportare beneficio anche dal punto di vista turistico all'economia della zona, del territorio in cui essi insistono. Sono siti di rilevante importanza per quello che ci narra Tito Livio e altri storici romani, che individuavano proprio in queste zone importanti centri sanniti. Partendo dalla fortificazione sannita di Frosolone, gli archeologi hanno già avviato qualche studio preliminare in questa area, ottenendo risultati incoraggianti. Innanzitutto è stata delineata l'area della fortificazione effettuando un rilevo dettagliato di ogni tratto murario e quindi è stata aggiornata la mappa che finora era disponibile. Inoltre sono state individuate delle zone dove la concentrazione dei materiali archeologici è più alta e sono state effettuate queste indagini con metodi geofisici non invasivi che hanno permesso l'individuazione di almeno quattro aree potenzialmente interessanti dove potrebbero essere presenti nel sottosuolo indagato delle strutture archeologiche connesse alla fortificazione sannita.